non ci vengono, guarda che buono non ti perginare portamale per piacere togliete la suoneria signorina volete andare a fare la combassa? andate volete andare a fare la combassa? andate venite 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 voi voi venite 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 Vito, ma che sei ministro? Tu ti egi coordinato Che hai fatto tu? Aiuto regista Hai firmato tu l'autorizzazione? Prendi Pronti? Stia davanti alla macchina L'avanti alla macchina No, io prendi In questo modo Partito. 54-2 prima. Buona. Aspetti l'azione, signore. Mi faccio a tutti. Alla su. L'azione. Signora, leva. Alla su. 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 Alla su.